partiamo fra un minuto 50 sinistra 5 piena vai 30 destra 5 piena vai no così si chiude confermato 12.51 30 secondi chiude la notte un po' al vetro 20 secondi 15 10 semaforo 5 4 3 2 1 vai 50 sinistra 5 piena vai 30 destra 5 piena vai e subito attenzione stacca sinistra 2 tieni destra al bivio 50 su dosso pieno scende Arraele destra 4 in due tempi la seconda chiude 3 meno 50 alle canne stacca prima di sconnesso ritarda destra 2 lunga gira dentro sporca in ritarda molto sinistra 3 più lunga sconnessa vai stai esterno subito destra 4 su dosso sporco tieni e subito sinistra 5 su dosso scende in due tempi occhio per tornante destro sporco e sconnesso in sinistra 3 secca occhio interno subito dentro subito dentro 30 tornante sinistro in dentro destra 3 più sporca subito ritarda destra 3 in due tempi sconnessa subito destra 4 apre 5 molto sconnesso con dosso 20 attenzione sinistra 2 scivola sporca sul ponte in alle canne destra 3 meno sporca e subito ritarda poco sinistra 4 sale via via in destra 4 piena vai sporca per attenzione destra 2 20 tornante destro molto sporco in uscita subito destra e sinistra 4 sporca apre vai 20 sinistra 5 sporca vai subito destra 6 sconnessa piena stai al centro subito sinistra 4 chiude poco sul dorso abbiamo bucato subito 6 a destra in destra 5 lunga lunga sporca buca e vai accelera accelera qua accelera fine prova stop c'è una ruota a terra è vero? no no? io sento vibrare qualcosa io sento vibrare qualcosa 2092 va bene? va bene va bene ma c'è qualcosa che non mi piace ok grazie miglior tempo? primi? siamo primi assoluti di qua? vai 208 e 9 208 e 9 così si fa salvo così si fa tieni fanno a mano un attimo grazie grazie grazie